Il Consiglio Comunale di Corato ha approvato le tariffe di IMU, Tasi e Tari e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Un risultato affatto scontato dopo le fibrillazioni che negli ultimi mesi avevano rischiato di far implodere il centrodestra che sostiene il sindaco Massimo Mazzilli. Il primo cittadino si è presentato in aula con una giunta dimissionaria, ma ancora nel pieno delle sue funzioni. Come passaggio propedeutico alla ricomposizione degli assetti interni alla maggioranza, infatti, la scorsa settimana tutti gli assessori avevano rassegnato le deleghe nelle mani del sindaco, anche se nessuno ha formalmente protocollato le dimissioni. L'unico componente della giunta ad aver fatto un passo indietro in maniera irrevocabile è stato il senatore Luigi Perrone, la cui delega all'urbanistica è passata in capo al sindaco stesso. Le opposizioni di centrosinistra hanno rimarcato più volte la mancanza di chiarezza all'interno di una maggioranza che si ripresenta in consiglio, senza sapere quali siano i confini della sua coalizione e chi ancora ne faccia parte a tutti gli effetti. In molti, tra i banchi delle opposizioni, hanno definito una farsa la presenza in aula di una giunta dimissionaria e quindi delegittimata. Il centrodestra ha dimostrato invece di sapersi ricompattare nel momento più complicato della legislatura. In Forza Italia, il consigliere Caputo è tornato ad esprimere fiducia personale e politica nei confronti del sindaco, mentre il collega Roselli, pur ribadendo la sua estraneità all'attuale maggioranza, si è dichiarato favorevole a ricercare l'unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. I provvedimenti portati in consiglio, ha spiegato, verranno valutati scrupolosamente volta per volta. Alla fine l'Assemblea ha riconfermato le aliquote IMU-Tasi e Tari con relative detrazioni già approvate lo scorso anno. La Tasi è già tra le più basse del circondario, ha spiegato Mazzilli, mentre la Tari subirà un decremento di circa il 10% per tutte le utenze non domestiche. Il centrodestra ha licenziato i provvedimenti con 14 voti a favore, passa con un voto in meno anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il prossimo consiglio comunale, convocato subito dopo le festività pasquali, sarà chiamato ad approvare il bilancio. Non è escluso che per quell'appuntamento Mazzilli riesca a presentarsi in aula con un nuovo esecutivo. La crisi amministrativa, aperta dall'abbandono della maggioranza da parte dei due consiglieri del movimento Schittulli, potrebbe quindi chiudersi definitivamente la prossima settimana.